Torna a Francavilla l'Adriatic Film Festival dal 19 al 22 settembre. Quattro giorni dedicati al cinema indipendente, nei quali saranno assegnati numerosi riconoscimenti. Una iniziativa bellissima su cui questa amministrazione scommette per la seconda volta, perché l'anno scorso è andata veramente, veramente bene, mi sento di dire anche sopra le aspettative, perché c'è stato questo incontro con l'Adriatic Film Festival e tutto lo staff, e insieme abbiamo deciso di provare a portare a Francavilla il cinema libero indipendente gratuito, come dicono loro. Quest'anno è la seconda edizione e abbiamo ricevuto più di mille iscrizioni, abbiamo quindi raddoppiato la cifra dell'anno scorso, che come prima edizione già era un buon risultato, 500 iscrizioni, quest'anno abbiamo superato le mille, 34 saranno i lavori in concorso, cortometraggi e documentari. Nell'auditorium del Palazzo Sirena il festival sarà completamente gratuito. È una scelta, la scelta è quella quindi di dare maggiore possibilità di friabilità del festival, e sì, l'accesso è gratuito tutte le giornate del festival, la premiazione, i film, a qualsiasi ora si può tranquillamente accedere. Grazie. 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 Grazie.